per chi ama mettere le mani in pasta ottima come merenda o perché no per una festa di compleanno sarà un piacere realizzarle e mangiarle tutte le nostre pizzette mio con l'impasto grioche che trovate su altri video sul mio canale vi lascio il link ricetta in descrizione o pensate voi come diversificarle durante la lavorazione sbizzarritevi con i condimenti semplicemente preparate l'impasto e lasciatelo riposare una mezz'oretta appena l'impasto sarà ben rilassato e leggermente raddoppiato fare delle palline da 40 45 grammi disponetele su una teglia distanziati come vedete sul video inseriamo sul forno spento magari coperti con un torcione e facciamoli evitare ulteriori 30 minuti dopo i 30 minuti spiattelliamo e possiamo condire solo pomodoro a metà cottura possiamo controllare la cottura sotto io vi consiglio di mettere la ricarda in basso nel forno e possiamo inserire gli ingredienti che vogliamo noi ritorniamo in forno forno acceso solo sopra per ultimare le nostre pizzette milio vi chiedo solo di supportare il canale se vi è piaciuto il video con una semplice iscrizione un commento e un mi piace grazie a tutti alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti